Era il 29 dicembre del 2010 quando parte della diga di Montedoglio crollò creando il panico nella popolazione della Valtiberina Aretina, un'enorme fuoriuscita d'acqua dal lago artificiale che ingrossò il letto del Tevere provocando allagamenti lungo il corso del fiume. A distanza di otto anni presso il tribunale di Arezzo è iniziato il processo di primo grado per i due imputati, l'ex direttore dell'ente Enrico Umbro Toscano Diego Zurli e un suo ingegnere Stefano Cola, accusati di disastro colposo, accusa che si prescrive il prossimo agosto. È quindi una corsa contro il tempo per arrivare ad una sentenza entro il 27 di giugno data dell'ultima udienza. Intanto davanti al giudice Giulia Soldini sono sfilati i membri della commissione d'inchiesta e i carabinieri della polizia giudiziaria che condussero le indagini. Allora che cosa è successo in questa prima udienza che arriva a quasi otto anni da quel crollo? Sì, sì, infatti ha messo a dura prova la memoria pur ottima dei consulenti della procura. Direi che oggi è emerso in maniera chiara che non vi era assolutamente evidenza di ammaloramenti nei conci poi ceduti che potessero mettere in allarme, generare allarme. Quindi quello su cui poggia la pubblica accusa, cioè questo fatto del 2006 che è stato secondo la pubblica accusa sottovalutato, non emerge secondo lei per il momento? Le dico di faccio fatica a scendere in dettagli tecnici. Le posso dire che oggi è un'udienza estremamente positivo perché tutto si è ricondotta ad una normalità e oltretutto è stato specificato che esistono sia nella costruzione che successivamente nel collaudo di queste opere pubbliche, di queste grandi opere pubbliche, tutta una serie di organi collegiali, quindi a loro volta composti da tutta una serie di specialisti del settore, ingegneri, che ciclicamente sono deputati dal ministero, dalla direzione diga, a svolgere a svolgere tutte le attività di sopralluogo, di verifica e di eventuale individuazione, di problematiche, tutti organi che non ne hanno mai rilevata nessuna. Quindi è già stata fissata la prossima udienza? Sì, sì, è stato formato un calendario di udienze e la prossima udienza è il 23 di aprile.